Ben ritrovati dalla redazione. Compiere ora dei test in quel fazzoletto di terreno per raccogliere dati su quali animali lo frequentino è totalmente inutile perché l'uomo ormai ha inquinato quell'area. Lo zoologo Nicola Bressi, consulente a titolo gratuito dell'Associazione Penelope che affianca i familiari di Liliana Ressinovic nel percorso che mira a far luce sulla morte della 63enne, non ha ancora depositato la sua relazione nella quale racconterà con precisione quali animali nel 2021 popolavano l'area dove il 5 gennaio del 2022 è stato trovato il corpo dell'ex dipendenza. regionale. Non riusciva ad accettare la fine delle loro storie e così non solo continuava cercando il telefono ma gli inviava messaggini quotidianamente anche con contenuti minacciosi e non mancavano insulti lanciati nei confronti dell'ormai ex compagno dopo una serie di appostamenti effettuati sotto la sua abitazione. Per tutti questi motivi una donna quarantenne di origini ungheresi mercoledì è stata condannata ad un anno e otto mesi per atti persecutori e lesioni personali e al pagamento di un risarcimento di 8 mila euro. approvata maggioranza dal consiglio regionale 26 sì e 15 no nessuno astenuto la manovra di assestamento di bilancio tunnale che distribuisce risorse sul territorio per complessivi 266,5 milioni di euro 154 dei quali destinati a comparto salute al termine di due giornate di lavori caratterizzati da 19 ore dal centro che è stato comparto nel voto a favore. una manovra autunno è compostata da fondi derivanti principalmente da maggiori entrate tributarie che dà priorità alla salute con quasi 154 milioni di euro per i bilanci delle aziende sanitarie e si estiene l'economia attraverso i fondi di erotazione nell'assestamento bis anche nuovi contributi a promoturismo FVG e iniziative legate a GO 2025 fondi per la riqualificazione degli immobili, la viabilità locale per le rette e per gli asili nido. Manca solamente l'ufficialità ma ormai è praticamente certo che il prossimo allenatore della Triestina sarà Pep Cloté all'anagrafe Josef Cloté Ruiz 47 anni catalano di Igualada comune in provincia di Barcellona un uomo totalmente a sorpresa con lo scelto dalla società La Bardata che ha spiazzato davvero tutti dopo che il folto mazzo di ipotesi di un paio di settimane fa aveva visto via via evaporare le varie soluzioni ultima quella di Breda. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche oggi ce l'ho coperto con piogge in genere moderate è possibile qualche locale pioggia abbondante, fasi anche senza piogge, temperature minime in pianura fra 11 e 14 gradi sulla costa fra 14 e 17 e le massime ovunque fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA, FWG, Meteo ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.